Salve a tutti, sono Valentina Galdi e sono onorata di aver ricevuto il premio Vincenzo Crocitti International 2021. Ringrazio il comitato direttivo, ma soprattutto l'autore Francesco Fiumarella per la sua umanità e la sua determinazione nell'incoraggiare i giovani come me che purtroppo vedono spesso troppe porte chiudersi e poche aprirsi. Colgo l'occasione sia per ricordare il grande artista al quale il premio è intitolato, ovvero Vincenzo Crocitti che non ho avuto il piacere di conoscere di persona ma che ha accompagnato con tanta simpatia la mia infanzia e la mia adolescenza, sia per dedicare, se mi è concesso, questo riconoscimento a tutte le persone che mi hanno supportato e hanno creduto in me fin dall'inizio. Grazie ancora.